Botta e risposta in merito alla questione della zona contestata tra il comune di Pagani e il comune di Sant'Egidio del Monte Albino. A parlare è il sindaco, in particolare si è fatto il punto su come ed in che modo le nuove disposizioni e i nuovi investimenti dovranno essere regolamentati. Nella seduta del Tar di Sareno sono stati discussi non un ricorso ma ben sei ricorsi. Di cui quattro avevano come oggetto la contestazione nel merito se una zona andava normata come agricola o per costruire o industriale. E un'altra proprio andando a ricorrere verso il fatto che i comuni di Sant'Egidio andavano a normare, a regolamentare un territorio non avendo più la potestà. E ovviamente, proprio in riferimento alla sentenza che c'è stata del Consiglio di Stato, il Tar di Salerno ha dato ragione al comune di Pagani. Accogliendo il ricorso del comune di Pagani ha detto che quella zona, il PUC che va a regolamentare quella parte è nulla. Ma non è nulla il PUC che va a regolamentare i territori di Sant'Egidio del Montalbino. I cittadini di Sant'Egidio del Montalbino devono avere la certezza che il PUC approvato è valido. Solo nella parte relativa alla zona ex zona contestato non ha validità. Tengo a precisare un'altra cosa che dispiace dire queste cose, però noi che facciamo politica, quando prendiamo degli impegni devono essere portati a terra. Abbiamo avuto ben due tavoli presso l'assessorato, anzi ringrazio anche l'assessore Discepolo, con il quale avevamo concordato. La regione Campania si era preso l'impegno e poi ha fatto quello di approvare una norma transitoria, una norma ponte, che nel momento che Pagani non è munito di un PUC, il PUC di riferimento fosse quello di Sant'Egidio del Montalbino. Ed è stato approvato, però Pagani aveva preso l'impegno che avrebbe richiesto il rinvio della discussione. Questo non è stato fatto e diciamo che è stato causato quello che poi è successo. Io dico che gli impegni che sono stati presi davanti a queste autorità regionali, ma specialmente davanti alla Convindus, agli imprenditori, perché tutto questo impegno era finalizzato a eliminare del tutto le problematiche causate agli imprenditori della zona. Per continuare la loro attività su un fabbricato costruito già in una zona che non si sa se è industriale o meno? Questa è una domanda molto tecnica. Io posso dire che per il futuro avranno dei problemi, perché non c'è un PUC di riferimento. Se non fosse stato annullato il PUC relativo a quella zona, i tecnici nostri dovevano, o meglio, gli industriali dovevano presentare istanza a Pagani, il comune di Pagani trasmettere l'istanza a Sant'Egidio, e il Sant'Egidio, in base a quella che era il PUC, accoglieva o respingeva l'istanza e passava tutto a Pagani. Questo non è possibile perché su quella zona non c'è più il PUC. Quello che abbiamo chiesto a Pagani e che chiederemo tra pochi giorni è quello là di recuperare gli investimenti fatti dal comune di Sant'Egidio del mondo su quel territorio, somme che sono state prese dal bilancio comunale. Vi spiego. Abbiamo costruito una scuola in media, c'è un'ex scuola materna, abbiamo costruito una strada di oltre 800 metri nuova, con marcia a piedi, rispettando le normative moderne per quanto riguarda i codici della strada. Abbiamo pubblica illuminazione, fognature, prima che passasse tutto a Lagori. Quindi noi chiederemo solamente gli investimenti. Il compito nostro è quello di dare voce al popolo, voce alla gente. Io ho trovato molto terreno fertile nei consigli regionali che quando qualcuno, anzi molti di loro, hanno ritenuto opportuno avere tutta la documentazione e se ne sono fatto un po' di una cultura su questa situazione, mi hanno chiamato per dire Sindaco, quando è pronta la proposta di legge io apporrò anche la mia firma. C'è una strada, io la percorrerò e ci metterò tutto, ci sto mettendo tutto per la verità. E penso che il politico, ma tutti, dobbiamo avere come unico indirizzo quello che è la volontà popolare. E quindi la Regione Campania dovrà indire per forza, una volta che ci sarà tutto l'iter per la preparazione di questa proposta di legge, quella di dare la voce al popolo. Dispiaciuto perché chi deve fare politica deve risolvere i problemi della gente, non aumentarli. È quello che è venuto a succedere, purtroppo abbiamo creato, io mi assumo la responsabilità di quello che ho fatto, di quello che faccio e di quello che farò in futuro. Io ho lavorato sempre, stando accanto alla mia gente, alla mia popolazione. Quello che probabilmente chi giudica non si mette nei panni dei destinatari di una sentenza. Perché si è venuto a creare un caos. Secondo me la giustizia deve risolvere il caos, non li deve creare. Secondo me la giustizia deve risolvere il caos, non li deve risolvere il caos, non li deve risolvere il caos. Secondo me la giustizia deve risolvere il caos.